Nel breve periodo quello che dobbiamo fare è aumentare la disponibilità di gas. Come si aumenta? Si aumenta per esempio con i regassificatori. Noi stiamo facendo questa battaglia per portare avanti e convincere gli altri partiti sulla necessità di implementare il regassificatore di Piombino. Questo ci permetterebbe di arrivare a primavera con un minimo di agio sulla disponibilità del gas. Invece sul prezzo del costo e il costo dell'energia elettrica quello che si può fare immediatamente è separare il costo del gas dal costo dell'energia elettrica perché oggi l'energia elettrica si produce in vari modi. Si produce con il gas, si produce con le rinnovabili, si produce con piccola parte con il carbone. Allora noi dovremmo sganciare il costo per esempio dell'energia elettrica prodotta con le rinnovabili dal costo del gas. In questo modo la bolletta potrebbe scendere immediatamente in modo consistente e visibile per tutti. Dopodiché quello che sta succedendo in Europa è la discussione sul prezzo a livello europeo, il prezzo di mettere un tetto al prezzo del gas. È una cosa un po' più complessa perché lì bisogna convincere tutti i paesi dell'Unione Europea. Adesso c'è stato il passo avanti della Germania che è importantissimo. Però sappiamo che l'Olanda anche per interessi loro personali sono molto contrari a questa cosa e lì bisogna lavorare con forza per portare avanti questo punto.